Dopo aver schiacciato i passatelli, li cuociamo nel brodo vegetale. Una volta cotte, li scogliamo, li passiamo in padella dove abbiamo fatto sciogliere del burro in precedenza. Intiriamo con il burro l'inizio e un po' di acqua di cottura del brodo vegetale dove abbiamo fatto i passatelli, non bisogna spannellare troppo forte sennò i passatelli potrebbero rompersi. Iniziamo anche il parmigiano nella mantecatura. Aggiustiamo un po' la consistenza sempre in padella dove trovi. Pelle è pronta, lo impiattiamo. E passiamo ad aberto per il tartufo. Via, fettiamo il tartufo, non c'è bisogno di bilancio, si va ad occhio dopo 30 e passa anni. Ormai ho capito che quando abbiamo coperto tutta la superficie sono circa 10 grammi. Poi se sono 11 è lo stesso. Grazie. 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 Grazie.